bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto ricordare le vittime di queste storie oggi amici parliamo di un caso olandese che in olanda i media hanno soprannominato come facebook mord ovvero il delitto di facebook e sento che in ogni paese c'è un delitto di facebook perché qua sul mio canale abbiamo già parlato di un delitto di facebook che però era americano anzi sento che ogni piattaforma social ha il suo delitto abbiamo parlato di delitti di facebook di tik tok di instagram addirittura di myspace comunque oggi parleremo del delitto di facebook olandese prima di cominciare però amici voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi ovvero letyshop letyshop è un servizio di cashback un servizio gratuito che ti permette di ricevere indietro una parte di soldi che spendi nel tuo shopping online attraverso il sito oppure l'app potete scegliere tra migliaia di negozi di tutti i generi ed è veramente comodo perché essendo convenzionato con così tanti negozi si ha davvero la possibilità di risparmiare su qualsiasi cosa basta iscriversi appunto gratuitamente sul sito o sull'app selezionare il negozio da cui vuoi fare l'acquisto controllare che l'icona verde di letyshop si attiva in alto e al checkout e in seguito al pagamento ti verrà accreditata la percentuale di cashback di soldi direttamente sul tuo conto paypal o sul tuo conto bancario e non si ricevono dei buoni sconto o cose così si ricevono proprio dei soldi reali con cui fare quello che si vuole scaricando l'estensione per il vostro browser inoltre sarà ancora più facile capire quali siti sono convenzionati con letyshop in modo da non perdere mai l'occasione di ricevere un cashback facendo shopping trovate il link per provare letyshop come sempre sotto nella descrizione del video e adesso torniamo alla storia di oggi ci troviamo in Olanda in una cittadina di nome Arnhem a circa un'ora da Amsterdam e qui Wincy vive insieme alla sua famiglia Joyce Howe che però tutti chiamano Wincy quindi lo farò anche io nel corso del video nasce a Hong Kong il 15 maggio del 1996 e si trasferisce con la sua famiglia nei Paesi Bassi quando è ancora una bambina infatti Wincy parla olandese perfettamente senza nessun accento Wincy crescendo diventa un'adolescente molto bella e molto intelligente è un'ottima studentessa suona il pianoforte balla ed è anche un talento nel giocare a scacchi infatti fa anche parte di un prestigioso club di scacchi che si chiama Dam Club CTD e partecipa al campionato nazionale arrivando per ben due volte in semifinale Wincy frequenta il liceo ed è una ragazza piuttosto popolare con molti amici e una vita sociale piuttosto attiva ma diciamo che nel tempo si è creata una cerchia di amici un po' più stretta cioè amici che frequenta un po' di più e che sono tutti di discendenza cinese come lei la vita di Wincy è quella di una normalissima ragazza di quell'età senza nessun problema particolare questo però fino al 14 gennaio del 2012 quel giorno è un sabato intorno alle tre del pomeriggio quando qualcuno suona alla porta di casa sua suo padre Chumnam va ad aprire la porta e dietro ci trova un ragazzo un adolescente che poteva avere l'età di sua figlia che però lui non conosce gli chiede quindi chi fosse chi stesse cercando anche perché Wincy aveva un fratello che aveva qualche anno in meno di lei quindi insomma non sapeva di chi fosse amico questo ragazzo il ragazzo gli risponde che era lì per parlare con sua figlia Wincy quindi suo padre la chiama lei appare in cima alla rampa di scale che portava al secondo piano della casa e suo padre a quel punto se ne torna in cucina a cucinare insomma fare quello che stava facendo lasciando i due adolescenti da soli ma dopo un po' di tempo Chumnam sente sua figlia urlare in modo terrificante e piangere quindi velocemente corre all'ingresso della casa e senza neanche capire cosa stesse succedendo viene travolto e qualcuno gli sfregia la faccia con un coltello Chumnam tenta di difendersi tenta di lottare e nel farlo riesce a vedere che la persona che lo stava aggredendo era proprio quel ragazzo adolescente che aveva bussato alla porta poco prima nonostante i suoi tentativi di difesa l'adolescente ha la meglio su Chumnam infatti riesce a pugnalarlo una serie di volte alla faccia alla testa e alle braccia prima di darsi alla fuga tutto questo frastuono attira l'attenzione del fratello di Wincy che ha solo 12 anni che corre a vedere che cosa stesse succedendo e quando arriva lì all'ingresso di casa sua trova sua sorella e suo padre tutti e due immersi in una pozza di sangue con diverse ferite sul corpo il ragazzino a quel punto chiama immediatamente un'ambulanza e Wincy e suo padre vengono portati d'urgenza all'ospedale insieme all'ambulanza arriva anche chiaramente la polizia che inizia ad inseguire l'adolescente che aveva aggredito Wincy e suo padre anche perché praticamente tutto il vicinato lo aveva visto correre via e era anche tutto completamente sporco di sangue quindi diciamo che non passava molto inosservato il ragazzo scappa e si nasconde dentro dei cespugli e si rifiuta di arrendersi nonostante la polizia lo abbia praticamente circondato ma dopo che uno degli agenti spara un colpo di pistola in aria come avvertimento il ragazzo cambia idea e così riescono ad arrestarlo il suo nome è jin hua ed è un ragazzo di appena 14 anni infatti essendo un minore il suo cognome non viene mai rilasciato e ci si riferirà a lui sempre come jin hua k per comodità nel corso di questo video lo chiamerò jin la cosa assurda però è che a quanto pare jin neanche la conosceva wincy quindi che cosa lo aveva spinto quel giorno ad andare a casa sua e ad accoltellare lei e suo padre in quel modo ve lo spiego tra un attimo wincy e suo padre nel frattempo sono ricoverati in ospedale le ferite di suo padre chunnam fortunatamente non sono letali quindi dopo qualche punto e qualche giorno di convalescenza in ospedale viene dimesso senza troppi problemi le condizioni di wincy invece sono drammatiche lei si trova in terapia intensiva e non ha più ripreso conoscenza dopo l'aggressione e i dottori fanno tutto quello che possono per salvarla ma purtroppo cinque giorni dopo il 19 gennaio 2012 wincy non ce la fa e muore la polizia interroga jin per ore e ore nel corso di due giorni ma non riescono ad ottenere nulla da lui che ovviamente essendo un minore deve essere interrogato sia con il suo avvocato sia con i suoi genitori presenti ma il punto è che c'erano parecchi testimoni che lo avevano visto uscire di corsa da casa di wincy dopo l'aggressione tutto sporco di sangue quindi non è che potesse negare di essere stato lui ad aggredirli c'era anche il fratello di wincy che lo aveva proprio visto in casa subito prima che fuggisse quindi insomma non c'erano molti dubbi che fosse lui l'aggressore le cose però erano due se wincy e suo padre fossero sopravvissuti allora sicuramente jin se la sarebbe cavata con poco essendo un minore ma adesso wincy era morta e quindi le cose per jin sarebbero diventate molto più serie a meno che non avesse scaricato parte della colpa su qualcun altro ed è proprio in quel momento che jin inizia a parlare e come prima cosa dice che non è stata colpa sua cioè sì lui aveva effettivamente aggredito wincy e suo padre ma non era stata una sua idea era stato un certo wesley a farglielo fare ma chi è questo wesley wesley è anche lui un ragazzo adolescente che frequenta lo stesso giro di amici di wincy ma quando i detective lo portano in centrale per interrogare anche lui anche qui sembrava di aver di fronte un muro wesley è molto vago nelle risposte alle domande dei detective e comunque nega qualsiasi accusa nega di aver detto a jin di uccidere wincy nega addirittura di conoscere jin lui non sapeva nulla e lo stavano tirando in mezzo a questa storia senza nessun motivo ma la situazione stava diventando sempre più importante la famiglia di wincy era distrutta dalla sua morte la gente pretendeva delle risposte centinaia di persone ogni giorno si presentavano fuori casa di wincy per mostrare la loro solidarietà o per lasciare un mazzo di fiori e il 25 gennaio praticamente l'intera città scende in strada con una candela per fare un minuto di silenzio e una specie di processione in onore della giovane ragazza a questo punto amici l'intera nazione parla della morte di wincy e come già detto la gente pretende delle risposte e non passa molto tempo prima che dalle indagini i detective riescono a scoprire qualcosa durante le indagini infatti i detective ispezionano tutti i dispositivi elettronici di jin ed è lì che trovano parecchie cose interessanti trovano conversazioni messaggi che messi tutti in ordine tipo puzzle raccontavano una storia e per capirla come al solito dobbiamo fare un passo indietro e dobbiamo immergerci nella vita di questi adolescenti quindi preparatevi dunque wincy frequentava il liceo come vi ho detto e usciva molto spesso con i ragazzi della comunità cinese della sua città e della sua scuola tra cui troviamo una certa polli polli era la migliore amica di wincy le due si erano conosciute a scuola ed erano state migliori amiche per anni ma poi era successo qualcosa le due avevano litigato e lo avevano fatto sotto gli occhi di tutti praticamente perché avevano litigato ad una festa circa due mesi prima dall'aggressione di wincy lei e la sua amica polli avevano partecipato ad una festa che si era svolta in un locale lì nella zona e durante la serata wincy aveva notato degli atteggiamenti di polli che non le erano piaciuti ora non è chiaro esattamente che cosa sia successo anche perché contate che la maggior parte delle notizie su questo caso e tutti gli articoli sono in olandese quindi non è stato facile mettere tutto insieme e tradurre comunque da quello che ho capito nel loro litigio c'entra un ragazzo da quello che ho capito a wincy piaceva un ragazzo e a quella festa aveva notato che polli ci stava un po provando con questo ragazzo e quindi lei wincy se l'era presa e aveva iniziato a parlarne con le altre ragazze del gruppo sfogandosi ma quando polli si accorge che wincy stava parlando male di lei con altri amici si indispone e le due avevano appunto iniziato a litigare male malissimo iniziano prima ad urlarsi addosso poi ad insultarsi e infine si prendono per i capelli insomma la lite diventa proprio fisica e i loro amici che sono lì e che vedono tutto le dividono e tentano di mettere fine alla cosa ma la serata è ormai rovinata comunque la lite finisce lì ma le due ragazze si dividono e da quel momento chiaramente il loro rapporto si raffredda qualche giorno dopo polli pubblica qualcosa su facebook non sappiamo che cosa esattamente non sappiamo se fosse una frase o una foto sappiamo però che wincy le lascia un commento per nulla carino ovvero le scrive oh mio dio quanto puoi essere zocco è un commento sicuramente spiacevole e come possiamo immaginare polli ci rimane molto male ma non le risponde non risponde a questo commento qualcun altro però risponde al commento di wincy alcuni ragazzi sempre del loro gruppo di amici uno di loro commenta wincy devi stare attenta a quello che dici e sarà meglio che impari dai tuoi errori perché se no lo sai che cosa succederà mentre un'altra persona commenta wincy deve stare zitta oppure qualcosa di serio accadrà quindi da questi commenti sembra che il gruppo si sia un po disgregato e sembra che le persone del gruppo si siano tendenzialmente schierate dalla parte di polli perché di questi commenti che vengono lasciati non ce n'era neanche uno a favore di wincy leggendo così però si sono chiaramente delle minacce però sono anche scritte da ragazzi di 14 15 16 anni in seguito a quello che sembra uno stupido litigio tra virgolette quindi nessuno le prende sul serio comunque l'amicizia di wincy e polli sembra finita le due non si parlano più ma i genitori delle ragazze anche lì non ci fanno troppo caso perché era già successo che le due avessero qualche screzio insomma erano tutti convinti che nel giro di un paio di giorni sarebbero tornate amiche come prima ma non è così passa un mese quindi siamo a dicembre e la mia teoria di prima ovvero che gli amici di wincy e polli siano tutti passati dalla parte di polli lasciando wincy un po da sola si concretizza nel senso che a dicembre c'era la festa di compleanno di un loro amico e a questa festa wincy non viene invitata non viene invitata proprio perché aveva litigato con polli e nessuno voleva fare arrabbiare polli a questa festa però wincy si presenta lo stesso e alla sua vista praticamente secondo i presenti cala il gelo la situazione si fa estremamente imbarazzante polli quando la vede quando vede wincy rimane a dir poco indignata e senza pensarci due volte le si scaglia contro dicendole di andarsene perché tanto nessuno la voleva lì le due quindi di nuovo iniziano a litigare e chiaramente viene fuori anche la questione del post di facebook del commento polli le rinfaccia il brutto commento che le aveva lasciato e poco dopo di nuovo il litigio degenera dalle urla passano agli insulti e dagli insulti passano alle mani e mentre gli altri amici cercano di dividerle polli urla una frase a wincy le urla ripetutamente io ti uccido e poi le dice di non volerla vedere mai più nella sua vita e di andarsene wincy a questo punto è in lacrime anche perché si rende conto che nessuno è dalla sua parte polli era riuscita a mettere tutti contro di lei e quindi alla fine se ne va dopo questo fatto polli continua ad ignorare wincy in pubblico cioè da fuori dopo la lite non sembrava che polli fosse così tanto arrabbiata con wincy sembrava che non volesse più averci nulla che fare e basta ma in realtà polli aveva iniziato a perseguitare letteralmente wincy polli era come ossessionata da lei le scrive costantemente in privato su facebook e tutte le volte che le scrive i messaggi sono carichi non solo di odio ma proprio di minacce minacce di morte polli scrive a wincy ripetutamente che non solo avrebbe ucciso lei ma volendo avrebbe potuto uccidere anche tutta la sua famiglia e ad un certo punto wincy inizia ad avere paura sul serio infatti ne parla anche ad alcuni amici quei pochi che purtroppo le erano rimasti dicendogli che iniziava a temere per la sua incolumità ma loro le rispondono di non essere ridicola le dicono che polli senza dubbio era una ragazza molto drammatica una vera e propria drama queen e con un carattere sicuramente molto esplosivo che la portava spesso a esagerare con le parole ma non le avrebbe mai fatto del male diceva sempre cose così esagerate quando si arrabbiava ma wincy non è convinta a lei polli sembra ossessionata e aveva ragione polli era ossessionata e non aveva nessuna intenzione di fare pace con la sua amica anzi inizia a pianificare una vera e propria vendetta polli voleva fare del male a wincy voleva che soffrisse fisicamente spaventarla con dei messaggi su facebook non era più abbastanza per lei voleva fare qualcosa di più polli aveva da poco un nuovo fidanzato e il suo nome è wesley esatto proprio lo stesso wesley che la polizia stava interrogando quello che jean aveva accusato di aver ideato l'omicidio di wincy wesley secondo tutte le persone del loro gruppo era da sempre stato fissato con polli aveva sempre avuto un enorme cotta per lei quindi ora che finalmente stavano insieme avrebbe fatto di tutto per lei e polli questa cosa la sapeva polli teneva letteralmente wesley in pugno pensate che secondo alcuni loro amici lei lo aveva convinto a cambiare tutto il suo aspetto lo aveva convinto a tingersi i capelli e a decolorarseli raggiungendo così una perfetta tonalità di arancione come si può vedere dalle foto e lo aveva costretto no costretto convinto a farsi il buco all'orecchio mettersi l'orecchino lo aveva convinto a cambiare modo di vestire insomma secondo alcuni per polli avere un fidanzato era più che altro una moda e oltre questo in generale le piaceva avere qualcuno da manipolare insomma secondo i racconti polli sembra la classica mean girl polli quindi inizia a lamentarsi costantemente con il suo fidanzato wesley gli dice di odiare wincy e di volerla fuori dalla sua vita di volerla morta addirittura e a questo punto non è chiaro cosa sia successo cioè se sia stata polli a chiedere a wesley di fare qualcosa e di uccidere la sua amica wincy o se sia stato wesley stesso il suo fidanzato a proporsi e ad architettare tutto il piano quello che si sa per certo è che wesley spesso si era vantato con i suoi amici del fatto che la sua famiglia fosse molto vicina alla mafia cinese e di conseguenza diceva di avere delle conoscenze molto pericolose wesley aveva un po questa quest'aria da ragazzo un po pericoloso quindi potrebbe anche essere credibile la seconda opzione ovvero che wesley si sia proposto e abbia detto a polli non preoccuparti ci pensiamo io i miei amici della mafia cinese certo è che per uno che dice di avere tutte queste conoscenze pericolose questi killer esperti dalla mafia cinese insomma poteva forse impegnarsi un po di più quando ha scelto la persona a cui affidare questa missione no di uccidere wincy perché dalle indagini viene fuori che esattamente il 9 dicembre 2011 wesley contatta la persona che avrebbe dovuto far fuori wincy e quella persona è jin il ragazzino 14enne di cui abbiamo parlato prima che non faceva esattamente parte della mafia cinese jin è anche lui di origini cinesi e secondo tutti quelli che lo conoscono è un ragazzo molto molto insicuro che avrebbe fatto di tutto per farsi accettare dagli altri addirittura sua madre racconta che a volte jin era disposto anche a dare agli altri ragazzi la sua paghetta settimanale solo per permettergli di poter uscire con loro che se ci pensate una cosa estremamente triste ma secondo alcuni suoi compagni di classe di scuola da un certo punto in poi jin si era come reinventato cioè si era creato un personaggio da un giorno all'altro aveva iniziato a darsi delle arie da duro aveva iniziato a vestirsi diversamente aveva iniziato a sparare frasi maschiliste misogine qua e là solo per appunto apparire più non lo so più interessante a chi non lo so non chiedetemi però questo è quello che i suoi compagni dicono jin aveva conosciuto wesley a qualche serata perché appunto essendo entrambi di origini cinesi uscivano con lo stesso gruppo della comunità cinese e wesley lo aveva capito subito che jin era il tipo di persona che avrebbe fatto qualsiasi cosa per farsi accettare o comunque per dimostrare agli altri di essere un figo di essere coraggioso però senza effettivamente avere delle idee proprie e infatti quando wesley aveva parlato a jin dell'intenzione di uccidere la povera winsey pagandolo oltretutto lui aveva subito accettato convinto che se avesse ucciso qualcuno i suoi amici avrebbero pensato che fosse un figo evito di commentare perché non sarei gentile e se chiedo a voi di essere gentili nei commenti poi non posso non esserlo io quindi andiamo avanti wesley all'inizio aveva offerto a jin 1000 euro per la missione quindi per uccidere winsey che sicuramente non sono tanti per chiedere a qualcuno di togliere la vita a qualcun altro ma per due sedicenni anzi un sedicenne un quattordicenne sì 1000 euro era una cifra enorme io a 14 anni 1000 euro me li potevo solo sognare jin infatti come già detto accetta subito ma wesley ha questo problema cioè 1000 euro lui non ce li ha così sull'unghia polli però propone una soluzione ovvero pagare jin a rate 20 euro al mese per i restanti 50 anni quindi per il resto della sua vita un affarone insomma poi vabbè avevano capito che forse questo piano non era proprio geniale e avevano optato per dare a jin 150 euro subito più offrirgli un giro di cocktail una sera al club che frequentavano anche qui l'affare della vita proprio c'è tutto questo per togliere la vita ad una ragazza innocente eppure jin accetta e all'inizio si pensava che jin non conoscesse winsey questo è quello che lui aveva detto come se jin fosse stato semplicemente assunto da wesley per fare questa cosa come se jin fosse tipo un killer di professione ma poi quando è venuta fuori la verità è venuto fuori anche che lui conosceva winsey è venuta fuori una foto che ritraeva jin in mezzo a due ragazze con una faccia buffa e una di queste due ragazze era proprio winsey quindi sì sicuramente winsey e jin non erano grandi amici ma i due si conoscevano la verità è che wesley non aveva contatti con la mafia cinese e jin era semplicemente un ragazzo un po' sfigato passatemi il termine del gruppo con cui uscivano che era stato manipolato molto facilmente da wesley che a sua volta era stato manipolato molto facilmente da polli e la premeditazione del delitto va avanti per più di un mese polli aveva deciso tutto nei dettagli dettagli che poi wesley riferiva a jin i due ragazzi avevano fornito a jin l'indirizzo di casa di winsey la descrizione esatta della casa in cui viveva i giorni e le ore in cui avrebbe potuto con più probabilità trovarla in casa da sola c'era solo una cosa da decidere quando farlo jin aspettava solo l'ok da parte di wesley ad un certo punto però durante le vacanze di natale polli e wesley cambiano idea non si sa chi dei due abbia avuto i primi dubbi ma i due cambiano idea infatti wesley manda un messaggio a jin e gli dice che il piano era saltato e lui non doveva più uccidere nessuno ma purtroppo pochissimo tempo dopo i due cambiano di nuovo idea se non saremmo qui niente si erano confusi un attimo perché a natale siamo tutti un po più buoni ma poi passa il piano è di nuovo in atto e contate che per tutto quel tempo polli aveva continuato a perseguitare winsey con i suoi messaggi orribili su facebook su twitter e anche per telefono non la mollava un attimo nel frattempo jin si prepara per la missione per due volte si reca sul posto va davanti casa di winsey per essere sicuro di trovare casa sua si studia il vicinato la zona diversi vicini di casa di winsey infatti diranno di averlo visto in varie occasioni a girarsi nei dintorni nelle prime due settimane di gennaio il 12 gennaio jin riceve un messaggio da wesley quello era il giorno giusto il giorno in cui avrebbe dovuto togliere la vita a winsey era tutto perfetto perché lei sarebbe stata a casa da sola jin senza esitare allora parte arriva davanti casa di winsey suona la sua porta ma nessuno risponde in casa non c'è nessuno jin allora aspetta per un po' di tempo lì nei paraggi per vedere se winsey sarebbe tornata a casa e questo vi fa capire quanto fosse convinto di volerlo fare cioè se non avesse voluto farlo dopo un secondo avrebbe detto niente io ci ho provato non c'è nessuno ciao invece no lui aspetta per ore e ore vabbè comunque alla fine nessuno arriva e quindi se ne va e comunica a wesley la cosa ma quando glielo dice wesley e polly sono furiosi e gli dicono tu tra due giorni torni lì e non te ne vai se prima non uccidi winsey addirittura wesley dice a jin che se entro sabato winsey non era morta lui avrebbe chiamato i suoi contatti della mafia cinese e lo avrebbe fatto uccidere wesley lo sappiamo tutti che non hai nessun contatto nella mafia cinese basta jin invece di rispondergli benissimo già che ci sei daglielo ai tuoi amici della mafia cinese questo ingrato compito e invece di andare alla polizia gli risponde che andava bene probabilmente crede alle sue minacce e gli promette che sarebbe tornato lì due giorni dopo e avrebbe portato a termine la missione il giorno dopo il 13 gennaio è un venerdì e jin va a passare la notte a casa di un suo amico e una volta lì contatta wesley usando skype i due hanno una breve conversazione tutta in lingua cantonese in cui wesley gli dice a jin hai il suo indirizzo sai dove andare lei avrà pianoforte alle due del pomeriggio quindi tu dovrei essere lì alle tre ovviamente parla di winsey c'era solo un piccolo problema ovvero che wesley non aveva la certezza che winsey sarebbe stata da sola a casa il giorno dopo al che jin gli chiede cosa devo fare nel caso ci sia anche la sua famiglia a casa faccio fuori anche loro e wesley gli risponde sì perché no il giorno dopo jin lascia casa del suo amico da cui ha passato la notte e si incammina e questo suo amico da cui ha passato la notte che a quanto pare ha lo stesso livello di empatia e sensibilità di un carciofo esattamente come tutti gli adolescenti coinvolti in questa storia cosa fa secondo voi chiama la polizia perché ha appena scoperto che il suo amico sta andando ad uccidere una ragazzina innocente lo dice che ne so ai suoi genitori lo dice a qualcuno no invece di fare una cosa qualsiasi di queste scrive un post su facebook precisamente scrive oggi una ragazza morirà alle tre del pomeriggio a questo post risponde solo una ragazza che commenta con un oh mio dio ma nessuno dei loro amici prende sul serio la cosa non lo so nessuno chiama la polizia nessuno fa nulla jin prende il treno prende l'autobus per arrivare a casa di winsey e arriva di fronte la sua porta alle tre spaccate suona il campanello e il padre di winsey come sappiamo apre la porta gli chiede chi cercasse chiama sua figlia e lascia i due adolescenti da soli nel corridoio a quel punto secondo il racconto di jin winsey lo aveva guardato un po confusa e lui le aveva detto mi dispiace ma devo farlo aveva tirato fuori un coltello e aveva iniziato a colpirla al collo e alla faccia l'aggressione era stata così improvvisa e inaspettata che winsey non aveva neanche una ferita da difesa non aveva neanche avuto il tempo di alzare un braccio per difendersi poi come sappiamo suo padre era corso nel corridoio lui aveva lottato con jin aveva lottato con tutte le sue forze ma era stato colpito anche lui fortunatamente però non in modo mortale e quando era arrivato il fratellino di winsey di 12 anni jin era scappato via solo poche ore dopo chiaramente la notizia era già su tutti i telegiornali e a quel punto qualcuno degli amici di questa persona di jin si è ricordato di quel post che quel tizio aveva scritto su facebook vi ricordate l'amico di jin che aveva scritto oggi alle tre una ragazza morirà un utente allora commenta questo post con scritto wow cavolo l'ho appena visto al telegiornale e qualcun altro scrive fai attenzione anche la polizia a facebook torniamo quindi alla polizia al fatto che la polizia ha in custodia sia jin che wesley jin ha quasi subito dato la colpa a wesley giusto appena ha capito che la questione si stava facendo seria wesley dal canto suo all'inizio tenta in tutti i modi di tener fuori la sua fidanzatina polly non vuole coinvolgerla nonostante tutto sia partito da lei ma i detective come vi accennavo attraverso i loro dispositivi leggendo tutti i loro messaggi avevano messo semplicemente insieme i pezzi e da lì è stato tutto piuttosto semplice cioè avevano ricostruito tutto facilmente e tra l'altro i loro sospetti erano già suppolli perché quando la povera win si aveva perso la vita in ospedale dopo giorni di agonia vi ricordate che si era organizzata una veglia in suo onore in cui centinaia di persone si erano presentate ecco tutta la comunità cinese della città aveva anche fatto volare in cielo delle lanterne di carta e tutti avevano detto addio a winsey qualcuno di loro aveva ripreso questa questa cosa con il cellulare e da questo filmato che purtroppo però non è stato rilasciato al pubblico si poteva vedere polly che diceva addio a winsey ma non come tutti gli altri con dolore e tristezza ma col sorriso come se fosse felice che non ci fosse più e questo filmato ovviamente era arrivato alle autorità infatti il 24 gennaio la polizia si presenta a casa sua e arresta anche lei quindi a questo punto si trovano in custodia lei jean e wesley e quando il padre di winsey scopre che le autorità avevano arrestato polly è sconvolto è dispiaciuto dice alla polizia no rilasciatela deve esserci un errore lei è amica di mia figlia la polizia allora ha dovuto spiegare tutto quanto all'uomo al padre di winsey che rimane impietrito non ci può credere sapeva che polly e sua figlia nell'ultimo periodo avessero litigato ma avevano litigato tante volte prima non ci aveva dato peso pensava fosse una cosa passeggera come era sempre stato non avrebbe mai immaginato tutto questo la versione di polly ovviamente è ha fatto tutto wesley i tre ragazzi si comportano da manuale iniziano a darsi la colpa a vicenda polly dice che lei sì è vero che odiava winsey è vero anche che l'ha minacciata qualche volta su facebook anche perché quello non poteva negarlo perché avevano tutti i messaggi ma dice non avrei mai voluto ucciderla quello è stato wesley ha fatto tutto lui wesley da che prima non voleva coinvolgere la sua fidanzata appena sentito che polly aveva subito puntato il dito contro di lui l'ha letteralmente buttata sotto a un treno dicendo che aveva fatto tutto lei lui non aveva fatto proprio niente era stata lei persino secondo lui a voler assumere jean per eseguire il tutto comunque vabbè in un modo o nell'altro amici tutti i tre adolescenti confessano di essere stati complici nel brutale omicidio di winsey ora dovete sapere che in olanda i minori hanno sempre sentenze molto leggere e non vengono praticamente mai processati da adulti non importa quanto sia grave il loro crimine e questo perché si punta più ad una soluzione riabilitativa invece di una soluzione punitiva quindi tendenzialmente si mandano i minori in strutture di riabilitazione pur piuttosto che in carcere e questa cosa viene chiamata tbs che sono le iniziali di una roba in olandese impronunciabile che vi metto sullo schermo così ve la potete pronunciare voi che significherebbe all'incirca rendere una persona idonea a ricevere cure psichiatriche e questo viene applicato sia ai minori praticamente sempre comunque molto spesso sia alle persone a cui viene data l'infermità mentale quindi a persone che non si possono ritenere responsabili delle proprie azioni e per i minori fanno un po lo stesso ragionamento cioè non reputano il minore completamente capace di prendersi le responsabilità di commettere un crimine come se ancora non avessero la stessa facoltà di giudizio che ha un adulto infatti amici questo è esattamente quello che succede al processo di gene wesley e polly gene viene condannato ad un anno di prigione di riformatorio e a tre anni di questo tbs quindi tre anni in una struttura psichiatrica polly viene analizzata da diversi psichiatri perché si sospettava che avesse qualche disturbo della personalità che provocasse quel suo stato di incredibile assenza di empatia anche durante il processo che comunque vabbè si è svolto a porte chiuse la ragazza è sempre stata fredda distaccata e non ha mai mostrato nessun tipo di rimorso e comunque ha continuato a negare di aver effettivamente voluto winsey morta riesce anche usare una scusa veramente assurda ovvero che nella cultura cinese è normale dire voglio ucciderti ogni due parole cioè è una frase che si dice spoiler non è vero e comunque non era quello il caso e comunque bis per mia esperienza personale in cina con la morte non scherzano cioè c'è proprio un rispetto verso il concetto di morte molto grande non pronunciano questa parola a sproposito quindi dubito che come lei dice venga usato come intercalare wesley viene anche lui analizzato da alcuni psichiatri che determinano che la sua età intellettuale era quella di un bambino di 11 anni determinano anche che il ragazzo avesse una dipendenza affettiva da sua madre che aveva trasferito su polly una volta che i due avevano iniziato a uscire insieme e per questo faceva tutto quello che lei gli ordinava infine comunque gli psichiatri determinano che entrambi sia polly sia wesley hanno un ritardo emotivo quindi una ridotta capacità o una totale incapacità di provare emozioni empatiche e per questo motivo vengono condannati a soli due anni in riformatorio più tre anni di tbs quindi tre anni in una struttura psichiatrica i genitori di wincy sono devastati e furiosi per questa sentenza sia il padre che la madre che purtroppo ancora oggi la madre vive col senso di colpa perché quel giorno non era in casa la madre di wincy quindi si sente come se non avesse potuto proteggere sua figlia tra l'altro la mamma di wincy di cui purtroppo non ho trovato il nome per tutti i giorni del processo si è presentata in aula con una t-shirt con sopra la foto di wincy sorridente tutti i giorni comunque la famiglia di wincy non accetta queste sentenze per loro i ragazzi dovevano tutti venire processati come degli adulti perché il crimine che avevano commesso era troppo efferato troppo crudele e troppo premeditato provano infatti a fare appello due volte ma entrambi gli appelli vengono rifiutati e tra l'altro un po dalle indagini un po dal processo viene fuori una cosa veramente allucinante ovvero che praticamente tutti nella loro cerchia di amici sapevano del piano diabolico che polli e wesley stavano architettando con jean tutti sapevano e nessuno ha detto niente pensate che persino la madre di polli sapeva di tutti gli insulti e le minacce che sua figlia faceva costantemente a wincy sui social ma non ha mai fatto niente e nessuna di queste persone nemmeno il ragazzo che aveva scritto su facebook oggi morirà una ragazza alle tre e non aveva chiamato la polizia nessuna di queste persone è stata mai incriminata di niente a febbraio del 2017 wesley è libero ha scontato i suoi anni di riformatorio e un referto dei suoi medici afferma che le sue dipendenze affettive e i suoi problemi mentali sono stati curati con successo due settimane dopo viene rilasciata anche polli anche lei viene dichiarata completamente guarita dai suoi medici ma a entrambi i giovani vengono poste due condizioni una è che continuino ad andare in terapia e l'altra è che non si sentano né si incontrino mai avevano il divieto assoluto di sentirsi jean però non era ancora stato rilasciato e questo perché a quanto pare nella struttura psichiatrica in cui si trovava i medici non avevano ritenuto cioè non lo ritenevano ancora pronto si aveva fatto dei notevoli progressi ma non era ancora abbastanza sette mesi dopo jean fa richiesta per essere dimesso e questa volta gliel'accettano jean non è più considerato un pericolo né per se stesso né per la società e quindi anche lui viene rilasciato a settembre del 2017 anche se in una sorta di libertà vigilata doveva fare costantemente degli esami per controllare che non facesse uso di droghe o di alcol e le autorità potevano avere accesso alle sue finanze e ai suoi account social quindi era comunque tenuto sotto controllo ma questo non è sufficiente ad aprile dell'anno successivo quindi 2018 un uomo di cui non sappiamo il nome mette in vendita su internet dei pezzi di un computer non so come chiamarli comunque delle cose piuttosto costose del valore complessivo di 4000 euro e si mette d'accordo con un acquirente che lo aveva contattato e che sarebbe andato a casa sua cioè l'acquirente sarebbe andato a casa dell'uomo per andare a prendere queste cose che gli aveva comprato ma il giorno prestabilito alla porta si erano presentati due uomini entrambi asiatici che dopo aver preso questi pezzi di computer invece che pagare l'uomo e andarsene avevano tirato fuori una pistola e gliel'avevano puntata alla testa uno dei due uomini aveva poi detto all'uomo di contare fino a 60 e di stare immobile perché se non lo avrebbe ucciso uno di questi due uomini amici era jean jean e il suo complice vengono entrambi presi e arrestati dalla polizia ma chiaramente questo fatto riapre la ferita della famiglia di winsey che non aveva mai accettato quella sentenza troppo breve per loro e il fatto che appena uscito jean abbia subito fatto di nuovo del male diciamo che gli dà un po la conferma il padre di winsey ha dichiarato in un'intervista che perlomeno era felice del fatto che jean fosse tornato in carcere anche se amici non ho trovato altre informazioni quindi non so per quanto tempo jean sia stato in carcere o se sia ancora in carcere queste amici sono tutte le informazioni che avevo su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate o no fatemi sapere che cosa ne pensate lasciandomi come sempre un commento e come al solito amici io vi ringrazio per aver passato anche oggi il vostro tempo con me e ci rivediamo al prossimo video ciao